tensione, baguette, un po' crudo, classico bufalino, acqua da stirati, bufalino cosa costo sai 7 euro e 90, non è che vado a vedere il prezzo, passa la cassa per una volta, la cassa da morto e poi ma c'è, è tempo di? è tempo di morire, bravo nevo numero 1, numero 1 nevole lo stirato